Il teatro Umberto Giordano metterà in scena sabato prossimo un cortometraggio di 14 minuti ideato dal filmmaker Jean-Pierre Clima un viaggio suggestivo carico di misticismo e religiosità per celebrare l'ultimo lavoro artistico di Michele Clima fratello di Jean-Pierre che ha raccontato nell'ultimo Natale 2019 la cantata dei pastori celebrando i 30 anni dall'inizio della collezione delle statuette dell'artista foggiano che di anno in anno realizza con le sue sapienti mani raccontando le tradizioni di saperi della nostra terra un viaggio virtuale che sarà proiettato sabato 25 gennaio presso il teatro Giordano in collaborazione con l'assessorato alla cultura di Anna Paola Giuliani l'opera cinematografica si avvale della partecipazione del noto attore foggiano Nicola Rignanese che interpreterà con il dialetto foggiano l'ultimo atto di un Natale non ancora del tutto concluso se non quando giungerà l'imminente festa della Candelora un racconto delicato e dissacrante scritto dallo stesso Michele Clima un peregrinare vagabondo tra le quinte di una foggia ideale di fine ottocento in cui si riviveranno piazzette popolari, luoghi nascosti ed intimi della città monumenti, greggi transumanti e personaggi simbolo della foggianità su tutti i cappelloni delle croci che celebrerà l'identità culturale cittadina le telecamere penetreranno l'allestimento presepiale attraverso scene animate camminando tra pastori, cavalli, carri di una foggia incantata il presepio di Michele Clima di oltre 20 metri quadri e il film di Giampier racconterà con un linguaggio stereofonico che parla al cuore l'anima colorata e mediterranea, pugliese e partenopea in questo percorso alchemico tra la taverna di Lucifero e la grotta di Betlemme verso una rinascita catartica per tutti i figli di Dio Io segno